con red in blue le canzoni della nostra vita si celebrerà la chiusura dei cantieri dell'immaginario 2018 martedì 31 luglio alle ore 21 e 30 nel cortile del palazzo dell'emiciclo con la direzione e gli arrangiamenti del maestro stefano fonzi l'orchestra sinfonica abruzzese darà vita a un concerto red in blue che rappresenta la continua evoluzione della vita artistica di red canzian cantante compositore produttore dal 1973 membro dei pub attraverso la musica cantata e strumentale red canzian ripercorrerà i più grandi successi italiani e internazionali che hanno fatto emozionare tre generazioni passando dagli intramontabili brani degli anni 70 alle canzoni più recenti accompagnato da un trio jazz dall'orchestra sinfonica abruzzese e da una voce femminile d'eccezione chiara la figlia red canzian propone versioni di brani contaminate da linguaggi moderni che spaziano dal pop al jazz passando per la musica etnica nelle più ampie accezioni del termine proposte con linguaggio sempre più attuale per un viaggio musicale dalle mille sfumature il bello di questo concerto è che le canzoni rimangono importanti esattamente come erano nel momento in cui sono state scritte e sono uscite sul mercato canzoni anche di 40 o 50 anni fa però le abbiamo spogliate e rivestite a modo nostro per dare una rilettura personale e far capire che quando la qualità c'è quando la musica è buona in qualsiasi modo tu la proponga è comunque buona siamo ad un'edizione io dico sempre sembra come se fosse un'edizione zero perché quest'anno abbiamo deciso di fare un palco accentratore del festival l'emiciclo e altri eventi dislocati la città si è rimpossessata di questa bellissima location e è stato bello vedere come tutti i cittadini erano contenti nell'uscire la sera e venire all'emiciclo come se fosse un luogo di aggregazione che hanno sempre frequentato che hanno sempre vissuto questo è stato un momento importante che ha segnato anche un pizzico di differenza con qualche mese fa che si pensava alla villa comunale come un luogo in in continuo restauro ecco il festival è stato intriso di piccole realtà di grandi realtà di grandi nomi un festival che è stato per tutti i gusti e per e per tutte le qualità artistiche grazie a tutti grazie a tutti